Musica Ciao gentaglia, ben risvegliati nel bel paese quindi mentre chiudevate gli occhi vi sarete chiesti è tutto uguale a prima? La risposta è ovviamente sì visto che nelle ultime 48 ore la più grande polemica ma sarebbe meglio dire la più grande tra le polemiche stupide avvenuta in Italia è stata una gigantesca secchiata di merda e fango che si è riversata addosso al ministro Boschi e non dico letteralmente perché so che alcuni di voi hanno alcuni gusti strani e non vi giudico però magari un giorno mi spiegherete perché non riusciamo a parlare della ministra Boschi senza che venga eletta sex symbol degli italiani o solo perché finisce in bichini sui giornali italiani che è tutto dire, è tutto dire ma il punto è che il ministro Boschi ha detto che le piace la carne di cavallo non sto scherzando c'è una polemica attorno al fatto che non doveva permettersi perché questo è mancare di rispetto al 7% degli italiani che sarebbero vegetariani o vegani e su questo io ho qualcosa da dire che potrebbe essere facilmente riassunto in bitch please e questo bitch please fortunatamente non andrebbe a schiantarsi in faccia su tutto questo 7% se è davvero un 7% perché non ho trovato nessun dato ufficiale su questa cosa ma se così fosse bene è giusto sono contento per voi però tutte le persone che si offendono se fanno una scelta di vita ma gli altri non la fanno hanno dei problemi quindi parliamo di questa roba qui visto che apparentemente in questi giorni inizia la settimana della carne che è anche una cosa buona e positivo visto che è una sorta di evento per portare l'attenzione sul fatto che il mercato della carne è un mercato problematico perché più aumentano le persone sulla faccia del nostro piccolo piccolo pezzo di roccia sperduto nello spazio più il mercato della carne diventa insostenibile ne abbiamo parlato tante volte e potrebbe essere che in un lontano futuro ma nemmeno così lontano questo debba essere abbandonato completamente o in larga parte visto che allevare animali da macello ha degli altissimi costi a livello di acqua a livello di risorse a livello di un sacco di cose e sin qui tutto bene se siete di quelle persone che dicono si dovremmo farlo per gli animali oppure dovremmo farlo perché è giusto per il pianeta siete miei amici se siete invece di quelle persone che dicono vergogna allora potremmo avere dei problemi state cercando di applicare la vostra visione del mondo agli altri e questo è sbagliato quindi no non c'è nessuna vergogna che al ministro Boschi piaccia la carne di cavallo le potrebbe piacere la carne d'asino per l'altro l'ho mangiata è buona e fortunatamente questo internet e nessuno mi manderà via a furor di popolo infatti vi ricorderete alla prova del cuoco quando questo signore qui che si chiama Beppe Bigazzi aveva ammesso tranquillamente candidamente di aver assaggiato la carne di gatto ed era successo un casino perché il gatto è amico e anche il cavallo è amico che è il discorso più stupido del mondo non ci sono animali amici e animali non amici anche il maiale se lo cresci come un cane è un animale amico anche la pecora anche la capra anche il coniglio il pollo il tacchino la mucca non ci sono animali fatti per essere mangiati e animali fatti per non essere mangiati sono semplicemente animali poi giusto o sbagliato mangiarli quello è nella coscienza di ognuno di noi ma chi si offende perde sempre facendo una veloce carrellata delle cose fantastiche accadute nel mondo durante il weekend in Texas adesso è legale fare foto a persone per strada e cerco di rimanere molto generico perché effettivamente la legge è molto generica tutto parte dalla denuncia e poi dal processo che era stato fatto a un 50enne americano che era stato trovato in possesso di foto scattate a dei bambini in pubblico bambini piccoli è finito in tribunale ma si è rivolto alla corte d'appello e ha detto hey queste foto non sono foto con dei contenuti sessuali non ho fatto niente di legale ho semplicemente fatto delle foto in pubblico che è una cosa legale e non mi si può processare per dei pensieri sarebbe come se io picchiassi un tizio perché penso che questo tizio stia facendo dei pensieri su mia moglie magari li sta facendo ma io non lo posso picchiare per quello almeno sinché non fa diventare quelle intenzioni quei pensieri delle azioni ovviamente la cosa è molto criticata però ci porta ad un'altra cosa che era successa su internet ovvero il reddit che si occupava di creepshot e che era stato chiuso era stato molto discusso dalla gentaglia che per chi non lo sapesse si trattava praticamente di un forum nel quale le persone postavano foto disconosciuti o più precisamente disconosciute viste per strada quindi trovavi una tizia girata di spalle mmm that ass faccio la foto e la pubblico su reddit questa cosa che è un po' moralmente una merda diciamocelo però effettivamente in texas non sarebbe considerata reato perché l'unica cosa che rimane ancora reato è fotografare parti del corpo di persone che normalmente non sarebbero visibili se tu infili lo smartphone sotto la gonna di una tipa e fai una foto allora sei perseguibile mentre ci occupiamo di queste cose su internet avviene il fappening numero 2 visto che c'è il seguito il gigantesco leak delle foto semi porno o porno o le si può definire come si vuole delle celebrità e a sto giro le persone colpite sono Rihanna che comunque di base è già molto nuda di per sé Kim Kardashian che ci ha fatto una carriera sul fatto di essere nuda in video Vanessa Hudgens di nuovo Jennifer Lawrence e di nuovo il punto è lo stesso non critico le persone che vanno a cercarsi le foto in effetti perché capisco che la curiosità ci sia eccetera ma il punto è che blam ti guardi le foto e ti rendi conto che sono semplicemente delle persone in alcuni casi persone molto belle ma comunque delle persone normalissime che hanno visto la loro privacy infranta perché non c'è nulla che questa società ammira di più che la privacy delle persone che si infrage guardate i titoli di oggi guardate come tutti i giornali nazionali stanno titolando mmmm Bossetti il probabile killer di Yara guardava porno con la moglie e sti gazzi? però ci piace così tanto puntare il dito sugli altri e dire che vergogna ma su ma su ok? citando peraltro altre cose interessanti che si occupano di non far diventare questo mondo peggiore di quanto già non sia sotto il profilo ambientale riscaldamento globale precisamente una marcia per il riscaldamento globale che è avvenuta appunto ieri in moltissime città del mondo per dare visibilità al problema del riscaldamento globale se ne parla da sempre se ne parla continuamente e tutti più o meno quelli che ci credono perché poi c'è un'enorme parte di persone nonostante la comunità scientifica dica che è una cosa reale che sta accadendo e che è pericolosa a parte questa parte di persone tutti gli altri si rendono conto che è un problema piuttosto grave e quindi scrollano le spalle piuttosto violentamente non fanno più hmmm capisco ed è più o meno tutto qui ma siccome domani i potenti del mondo si riuniranno per parlare appunto di cose questa compresa la suddetta marcia che appunto è stata sponsorizzata da Leonardo Di Caprio che è stato nominato addirittura ambasciatore dell'ONU dal segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon in modo che la cosa abbia più attenzione mediatica possibile perché di nuovo se le persone non si interessano ai problemi questi problemi non vengono discussi si passano un pochino in sordina in ultima gentaglia volevo parlare di qualcosa di positivo in realtà o comunque di più o meno positivo visto che in effetti 526.000 dollari che vengono buttati nel water non è esattamente una cosa positiva e mi riferisco di nuovo a Kickstarter abbiamo parlato spesso di Kickstarter di siti come Kickstarter proprio per il fatto che come passano gli anni e molti dei progetti dovrebbero arrivare a maturazione ehhh arrivano a maturazione ma in realtà si perdono ed è di nuovo questo il caso parliamo di questo videogioco che si chiama Clang o si sarebbe dovuto chiamare Clang e che è stato lanciato nel 2012 e il 9 luglio del 2012 ha raggiunto appena l'obiettivo di 500.000 dollari per la realizzazione appunto di questa roba qui di cosa si trattava? di un simulatore di combattimento medievale nel senso che tu dovevi praticamente impugnare i controller ma invece di agitarti come un pazzo come ad esempio quando giochi a Zelda sulla Wii era una roba che sarebbe dovuta essere molto realistica quindi concentrandosi su effettivamente quali fossero le tecniche di combattimento medievali e quindi ben 9.023 persone hanno lanciato la propria carta di credito verso questo progetto speranzoso di venire realtà che ormai avete capito non diverrà realtà e le persone che hanno lanciato i propri soldi rimarranno senza se si va infatti sulla pagina di Kickstarter si vede innanzitutto che tantissimi richiedono i propri soldi indietro e mentre per alcuni la cosa può essere un vabbè ho donato soltanto 10 dollari per altri come per chi ha donato 500 1000 1294 10.000 addirittura c'è chi ha donato 10.000 dollari potrebbe essere un problema e davvero non rivedranno i soldi indietro perché quei soldi ormai sono andati e il tutto è perfettamente legale perché è all'interno dell'utilizzo di Kickstarter Kickstarter fa sapere che in realtà soltanto un terzo dei progetti che raggiunge poi la cifra finale che dovrebbe portare a compimento il progetto in realtà vede la luce due terzi di questi progetti scompaiono ed evaporano assieme ai soldi che sono stati messi dalle persone per far accadere il tutto secondo voi com'è? internet si è reso conto che effettivamente questa roba non può funzionare? oppure semplicemente ci si sta rendendo conto che il voler fare qualcosa non equivale al fare qualcosa? non lo so fatemi sapere nei commenti ma questo gentaglia è tutto quello che avevo a dirvi per oggi grazie per aver guardato grazie ad Anna che è bellissima e la nostra regina per oggi viene da Ravenna e grazie a tutti voi per aver guardato sino a qui se avete guardato sino a qui altrimenti non vi starei ringraziando e quindi il tutto si perderebbe come lacrime nella pioggia eh? ho fatto colpo? no? ok ci vediamo domani alle 18